Sì, apprezzo la fiducia, ma non abbiamo finito. Ci serve più... Oh, più... Psa! Più... Stai scherzando, cosa? Ci serve più azione. Ti faremo attraversare il lago volando. Il mio contratto stabilisce che per qualsiasi scena possa rovinarmi la chioma, ci vorrà una controfigura. Tu farai esattamente quello che ti dico o mi troverò un'altra star! Stiamo cercando di salvare il campo. Qui nessuno compromette la mia visione! Che ti è capitato all'occhio? Ok, ok, sei tu il boss. Beh, siamo d'accordo. Continuiamo!